Torna il GP d'Australia due anni dopo causa pandemia e torna in un modo dominante per i tifosi della Ferrari e per Charles Leclerc che c'entra la seconda vittoria in tre gare, la quarta della carriera è lunga in modo preponderante su un campionato del mondo che ancora una volta ha uno sconfitto ed è la Red Bull in un tracciato, quello di Albert Park modificato nel nuovo layout che vediamo in grafica regalandoci una gara più spettacolare delle altre edizioni di Australia che abbiamo visto nel corso degli anni passati con dei cambiamenti tecnici veramente tanto importanti, è stata levata una chicane, è stata allargata soprattutto la carreggiata soprattutto in una media di metri che va da 4 a 7, questo ha favorito tantissimo i sorpassi che ci sono stati, sì ma per di fatto il podio e per le posizioni a ridosso del podio nonché per il solito gruppone a centro classifica, mentre c'è stato soltanto un pilota al comando che ha fatto un proprio position di qualificazione, giro più veloce e vittoria e quel pilota è Charles Leclerc che anche qui si dimostra il pilota da battere così come in Bahrain e così come a tratti abbiamo visto in Arabia Saudita anche se in quel caso fu Verstappen ad avere la meglio complice a un secondo settore importante, qui di importante c'è soltanto la macchina ovvero la Ferrari che ha finalmente dato una macchina competitiva al pilota Monegasso che veramente fin dalle prime battute ha sempre dimostrato un passo superiore tanto è vero che addirittura l'unico pit stop che è stato fatto in sede appunto di cambio gomme Leclerc ha avuto il margine per entrare davanti agli altri inseguitori che veramente hanno preso le piste, basti pensare che in quel momento al termine del primo pit stop avuto intorno al ventesimo giro Verstappen che era il più immediato inseguitore aveva oltre 20 secondi di vantaggio segno che su questo tipo di nuovo circuito di Melbourne la Ferrari o meglio Leclerc era il pilota da battere e se era già visto in realtà in qualificazione con un giro pauroso del pilota Monegasso che ha dato tre decimi sul giro secco a Verstappen e in generale a una Red Bull che comunque aveva dimostrato di essere comunque una macchina competitiva anche in questo contesto è evidente come ci sia una lotta Ferrari-Red Bull ma è altrettanto evidente come al momento questa lotta sia abbastanza impari un po' per meriti straordinari della Ferrari un po' per un altro problema di affidabilità capitato alla Red Bull e questo è il motivo per cui il vantaggio al termine della terza gara di Leclerc sugli impianti inseguitori è veramente clamoroso perché Leclerc ha fatto due prime e un secondo posto con un giro veloce e totale fanno 71 punti il più grande avversario di Leclerc ovvero Verstappen ne ha fatti 25 perché ancora una volta la Red Bull dimostra di essere una macchina tanto competitiva quanto poco affidabile ancora una volta per la terza volta o meglio la seconda in tre gare Verstappen deve cedere la gara deve abbandonare la competizione per un problema al motore era capitato in Bahrain a entrambi le Red Bull anche Perez dovette abbicare al podio peraltro meritato nella gara araba ed era un podio che qui invece viene salvato soltanto dal pilota messicano Perez salva una Red Bull in qualche modo che però deve ancora una volta leccarsi le ferite con questa affidabilità veramente incredibile in senso contrario Verstappen che abbiamo visto essere comunque un pilota che non è in questo momento a livello di questo Leclerc ma è un pilota che tutte le volte comunque fa primo o secondo di conseguenza ci sarebbero ancora una volta tante chance per un mondiale tanto combattuto e invece ancora una volta l'affidabilità della Red Bull la fa da padrone e appunto Verstappen si ritrova con un mezzo impotente in confronto a questo problema Verstappen deve abbandonare per ritiro al 39-58 giri e poi da lì la gara non avrà più senso di esistere e le posizioni saranno cristallizzate per una Formula 1 che comunque torna ad avere altri motivi di interesse non solo per il duello Ferrari Red Bull con Leclerc ancora una volta in questo caso dominante ma per di fatto aver ritrovato alcune scuderie che hanno evidentemente risolto parte dei problemi che l'avevano afflitto nelle prime due gare perché se vediamo attentamente il podio e qui abbiamo l'immagine c'è una Mercedes sul podio e non è Lewis Hamilton ma è George Russell che fa una gara straordinaria beneficia va detto in realtà di una safety car causata dal retiro di Sebastian Vettel safety car che avrebbe potuto anche in realtà inguagliare Leclerc nella rincorsa alla vittoria con un Verstappen che si era di conseguenza riavvicinato visto il ricompattamento nel gruppo ma lì Leclerc è stato veramente bravissimo e ha messo il vantaggio che doveva mettere è stato altrettanto bravo Russell che comunque si è fermato prima della diciamo esposizione della bandiera rossa di P3 inchiusa e di conseguenza ha cambiato perdendo meno tempo rispetto agli altri avversari e di conseguenza era entrato in lotta per il podio e ha avuto la meglio anche di Lewis Hamilton per cui onore a Russell che fa riportare una Mercedes che comunque era già comunque in occhio di miglioramento così come un'altra scuderia di cui parleremo evidentemente nel recap della classifica tre scuderie diverse sul podio ma ancora una volta dicevamo l'uomo da battere uno e uno solo ovvero Charles Leclerc per cui per la quarta volta in carriera suona l'inno nazionale Monegasco peraltro non bellissimo da vedere ma comunque molto dolce per i diffusi della Ferrari visto che comunque finalmente quello che viene chiamato il predestinato evidentemente ha tantissime chance quest'anno di portare a casa un titolo del mondo con questa macchina competitiva soprattutto su piste diverse tra loro perché Jedda, Bahrain e Australia hanno tutto forché diciamo caratteristiche simili in comune di conseguenza questo è assolutamente un buon viattico prima del primo dei due gran premi italiani che sarà Emola il 24 di aprile secondo è Sergio Perez che comunque avrebbe fatto podio in contumacia di Carlos Sainz di cui parleremo anche nel successivo recap e punto terzo come dicevo prima quel George Russell che veramente ha fatto una gran bella gara con questa vittoria Charles Leclerc sale a 71 punti e con questo podio addirittura è George Russell il più immediato inseguitore con 37 punti un vantaggio veramente incredibile e ammettendo che nel corso della stagione ci siano problemi di affidabilità anche per la Ferrari che al momento appaiono molto lontani ma comunque abbiamo visto come l'affidabilità è un fattore in questa gara anche Leclerc con 1-0 sarebbe comunque in testa al campionato segnò che il rendimento delle prime tre gare del Monegasco è veramente qualcosa di incredibile Russell con una macchina inferiore perché al momento la Mercedes è una macchina inferiore è addirittura seconda del mondiale e questo dà comunque segno del talento del piatto inglese che io aspettavo da anni e finalmente conquista il suo primo podio vero in Formula 1 dimentichiamoci della farsa di Spadel anno scorso e poi Sergio Perez completa un podio che in realtà è più amaro che dolce perché Perez avrebbe fatto sicuramente terzo ma evidentemente anche lui è a rischio affidabilità l'abbiamo visto in Bahrain qui si è salvato con un secondo posto ma è un podio che veramente lascia tanto la mare in bocca questa Red Bull che poteva quantomeno limitare i danni in questa pista e fare secondo e terzo dietro alle Clerc le altre posizioni, quarto lui se Hamilton per una Mercedes che dicevamo è risorta ma Hamilton ancora una volta ha dimostrato di avere qualche problema soprattutto nel long run in ogni caso è un Hamilton che si risolleva dal decimo posto della basso dita anche lui limita i danni va detto però che evidentemente non è quest'anno probabilmente l'anno buono per il titolo del mondo e attenzione perché Hamilton deve fare i conti con questo Russell che a parità di macchina abbastanza scadente per non dire peggio evidentemente ha fatto molto meglio un pilota del talento come Hamilton secondo me dovrebbe essere al livello di Russell se non leggermente superiore non è stato così comunque una Mercedes che dopo l'imbarazzo generale di Jedda ritorna dei livelli presentabili e fa terzo e quarto quinto posto per la gara di Australia per Lando Norris per la vera rivelazione evidentemente di questa gara oltre Russell parlo anche un po' da tifoso perché essendo tifoso McLaren è giusto sottolineare una buona prova quando effettivamente c'è la McLaren è dimostrata almeno qui in Australia lontana parente della McLaren che prendeva le piste da chiunque faceva oltre modo fatica dal Bahrain a Melbourne c'è stato sicuramente un passo in avanti certo non un passo in avanti per essere la terza forza stabile come era l'anno scorso insieme a Ferrari ma comunque è sicuramente meglio finire quinto e sesto perché anche Ricciardo fa un'ottima sesta posizione rispetto a prendere le piste da molte vetture da ritirarsi per me di affidabilità che hanno afflitto anche la McLaren invece di Ricciardo in Arabia Saudita e quindi sicuramente quinto e sesto è una pista dove magari il motore non era così sollecitato ma comunque erano in gioco altre caratteristiche ha comunque fatto vedere una McLaren presente che comunque può essere importante avere in queste posizioni della classifica settima è l'Alpine con Esteban Ocon che ancora una volta fa la sua gara di pilota da metà classifica con peraltro a tratti un Alonso che sembrava assolutamente più in palla rispetto a Ocon ma alla fine Alonso dovrà abdicare e di conseguenza spazio per il giovane francese ottavo Walteri Bottas che con un Alfa Romeo che sulla carta non è una delle macchine più importanti del circuito fa ancora una buonissima gara in zona punti e stavolta non c'è affidabilità che lo ha tradito non ha posizione per quanto riguarda la gara di Australia per Pierre Gasly che si conferma anche qui a metà classifica e i primi punti per la stagione a rientro in Formula 1 per Alexander Albon con una Williams che può contare su un primo pilota evidentemente ovvero il tailandese Alexander Albon e un Nikolas Atifi che ancora una volta finisce after the music comunque bella gara di Albon che di strategia di fatto riesce ad aggantare un punticino punticino di fondamentale importanza per una Williams che non è la macchina migliore dell'otto anzi probabilmente è una delle peggiori cosa abbiamo vinto comunque da questa gara di Australia? che i motorizzati in Mercedes sono comunque rientrati a livelli prepotenti in zona punti abbiamo visto le due Mercedes, le due McLaren e una Williams in zona punti e questo è importante per la casa tedesca che comunque fino a due gare fa o fino alla gara scorsa comunque arrancava tantissimo abbiamo visto ancora una volta che Leclerc è l'uomo da battere senza se e senza ma abbiamo visto che su tre piste ha fatto due primi, un secondo in volata e di conseguenza abbiamo capito chi è il go-to guy da battere in questo titolo del mondo 2022 al netto che siamo sempre alla terza gara e posso dire sempre di tutto visto che di gare ne mancano 20 con quella di Australia chi delude evidentemente è l'altra Ferrari perché dobbiamo parlare di Carlos Sainz Carlos Sainz che fa un'altra prestazione in colore questa ancora una volta è peggio evidentemente delle altre perché quantomeno nelle altre due gare è vero ha fatto podio ma prendeva tanti secondi di distacco dalle Clerc qui Sainz innanzitutto sbaglia la qualificazione perché nono con questa Ferrari è una prestazione deludente a mio modo di vedere e poi sbaglia la partenza e al fine del primo giro di fatto si ritira era partito con gomma bianca ma non aveva grip non ha mai trovato stabilità il piatto a spagnolo e di conseguenza di fatto Sainz si ritira al primo giro e lascia spazio di fatto agli altri a questa Mercedes che fa podio a questa Red Bull che comunque se la poteva lottare tra di loro e anche con Mercedes per le posizioni basse del podio non c'era chance però assolutamente di battere questo Leclerc Sainz però è l'altra faccia della medaglia della Ferrari che gioisce con Leclerc ma appunto deve essere arrabbiato a copiato a spagnolo perché in questa pista probabilmente c'erano chance per risultati molto migliori per la scuderia intera chi invece si merita il premio di driver del giorno è appunto George Russell lasciamo stare Leclerc che ha fatto un altro sport e il driver del giorno solo meriterebbe a prescindere degli altri George Russell è quello che mi ha piaciuto di più per i motivi di cui dicevo prima la Mercedes quest'anno è una macchina letteralmente inferiore rispetto anche a Ferrari Red Bull e avere con una macchina inferiore un pilota che ti fa quarto, quinto e terzo nelle prime tre gare è sicuramente un buon viatico segno che il talento Russell l'ha sempre avuto non ha mai avuto la macchina perché correva in Williams salvo una gara in Mercedes in Bahrain qualche anno fa e a momenti la vinceva ma poi sappiamo com'è finita questo è un podio vero un podio peraltro meritatissimo perché è stato davanti a Lewis Hamilton e appunto per essere stato davanti a uno dei più forti piloti dell'era moderna della Formula 1 è veramente tanta tanta roba e di conseguenza Russell per me è il driver del giorno del GP di Australia calendario di Formula 1 che adesso fa due settimane di pausa perché non si corre a Pasqua ci si rivede a Imola dove ricordo ancora una volta sarò presente insieme ai miei genitori insieme anche alla mia crew di amici per vedere il quarto gran premio stagionale per il GP dell'Emilia Romagna quindi non uscirà in questo caso il Racing Podcast ma uscirà probabilmente il giorno dopo un vlog o comunque qualcosa di attinente alla nostra esperienza live dall'autodromo Dino e Denzo Ferrari i Racing Podcast comunque torneranno in questi giorni perché c'è la Superbike che ha ricominciato il campionato c'è la MotoGP che corre stasera a Austin, Texas logicamente domani uscirà la Superbike che ha priorità rispetto alla MotoGP la MotoGP dovrebbe uscire tra martedì e mercoledì dipende quando riesco evidentemente a vedere le gare e a montare intanto i video in ogni caso questa è la classifica del campionato di Formula 1 2022 a terza gara ultimata con Leclerc nettamente primo e gli altri seguitori veramente after the music fatemi sapere cosa ne pensate della gara di Australia se vi è piaciuta se siete d'accordo con le mie opinioni eventualmente anche con i miei premi ci vediamo domani dunque per il Racing Podcast della Superbike e un saluto da parte di Medio Torgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti